Riecocina diretta, perseguita la ex e brucia l'automobile. Lo stalker, un 36enne romeno, è stato arrestato questa mattina all'alba dalla squadra mobile di Treviso. Ho ancora paura, dice la vittima. Ho sentito dei colpi anche stanotte sulla finestra. Spero sia la fine di un incubo. Secondo me anche stanotte è stato qua, perché l'avevo sentito. Ho sentito rumori strani. Che tipo di rumori? È come sbattere qualcosa dal vetro sopra. Può essere dei sassi, sì, che mi ha lanciato la camera da letto. L'avevo sentito, dopo mi sono svegliata, ho guardato la telecamera, e ho messo la telecamera, non c'era niente, mi sono addormentata, mi sono svegliata ancora. Nel terrore? Esatto. È ancora impaurita Eva, nome di fantasia, anche se il suo incubo quotidiano sembra finito con l'arresto di Daniel, Ionut Niculea, rumeno di 36 anni, su cui pende un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso. Gli agenti della squadra mobile, guidati da Immacolata Benvenuto, lo hanno scovato di prima mattina nell'appartamento di una copia di connazionali nella cintura urbana del capoluogo. Un anno d'inferno, quello vissuto dalla donna, barista in centro e mamma di una bambina di pochi anni. Siamo lasciati, gli ho detto che non voglio più e lui non l'ha mai accettata. E quindi gli ha cominciato con che cosa? Minacce? Con le minacce, sì. Si presentava sotto casa mia, all'asilo di mia figlia, al lavoro, dappertutto. Quindi ti insultava, ti minacciava anche di morte? Sì, sì, che mi ammazza, sì. Ti ha scritto che ti ammazza? Sì, sì, mi ha scritto, tutto scritto. 200, da tanti numeri diversi. 200 messaggi in un giorno? Sì, esatto. Le chiamate, ho dovuto cambiare numero, chiudermi tutti i Facebook, tutto, solo per non disturbarmi, per dormire. Eva torna con la mente anche alla notte del 15 febbraio scorso, quando la sua Citroen C3 prese fuoco proprio sotto casa, sul retro del condominio dove abita. Poco distante, in un casolare, gli agenti trovarono una tannica di benzina e un coltello, un fatto inquietante l'ennesimo, che ha ulteriormente accelerato l'attività investigativa con il coordinamento della procura. Tutti i contatti dell'uomo sono stati setacciati, una partita a scacchi finita poco dopo l'alba. Eva ringrazia tutti, ma confida di non essere ancora tranquilla. Sì, per quello che hanno fatto la questora, sì. L'hanno preso, sì. Però c'è ancora che l'hanno trovata vicino a casa a 5 km, sono ancora preoccupata, non sia che i suoi amici può essere qua. Cosa ti senti di dire alle donne che sono nella tua stessa condizione? Di stare attente, di non fare stesso errore che l'ho fatta io, conoscere un uomo sui social. Lui come si presentava sui social? Aveva la ditta, invece non era così, tutto diverso da quello che ha detto. Non aveva un lavoro? No, niente. Niculea si trova ora in carcere a Santa Bona, formalmente indagato per stalking e danneggiamenti. Cambiamo argomento, tornare ad avere un seno come quello precedente alla mastectomia e la battaglia di un'associazione di ex pazienti di tumore per vedere riconosciuta dal sistema sanitario nazionale una tecnica innovativa, ma oggi quasi osteggiata. Ho visto che era una cosa incredibile, che non era possibile che rimanesse nelle stanze della clinica dove io ero andata a farlo e che tutte le donne non fossero, e tante donne non fossero a conoscenza di questo. Questa è la storia di un diritto negato, il diritto a usufruire del metodo più naturale per recuperare la propria identità di donna dopo la terribile esperienza del tumore al seno dopo la sua ricostruzione. Una pratica oggi affidata soprattutto alle protesi in silicone, intervento che rientra nel percorso sanitario successivo alla mastectomia, è realizzato direttamente in sala operatoria. Certo, una soluzione che resta importante per le donne, ma non l'unica e non la migliore dal punto di vista naturale ed estetico, quindi psicologico. Perché c'è un'altra tecnica, ormai riconosciuta a livello internazionale, una tecnica nata dall'intuizione di un luminare veneto, ma ancora poco conosciuta, quasi osteggiata e non inserita nel percorso post-intervento dal sistema sanitario nazionale. La friulana Daniele Alizi ha fondato l'associazione AERIA proprio per informare il maggior numero di donne di questa innovazione che scoprì quasi per caso nel 2011 dopo il suo tumore. Usare non un corpo estraneo, ma il grasso della paziente stessa, che dopo una liposuzione non invasiva viene iniettato a più riprese nell'area della mammella rimossa. Questa è la soluzione del professor Gino Rigotti, chirurgo veronese, che iniziò la sperimentazione più di 20 anni fa con risultati oggetto ora di autorevoli riviste scientifiche, tanto da ottenere nel 2015 a Boston il prestigioso premio Jacques Malignac, tra i più importanti nella chirurgia plastica. Questa tecnica ha questa grandiosità del riportare il seno alla sua naturale originalità, una definitività che le protesi a silicone o anche le nuove protesi non possono dare, nel senso che comunque, e non tutti sanno, ma non tutti dicono, eccetera, le protesi comunque hanno una vita, hanno una scadenza. Seno simmetrico, naturale, non in scadenza, eppure per molte pazienti resta un sistema sconsigliato. Spesso gli viene detto che è un percorso molto lungo, faticoso, con tante operazioni. Vengono scoraggiate, ci sta dicendo questo? Assolutamente. Posso dire, dopo dieci anni e più, undici anni dalla mia operazione, che io la ricostruzione che ho fatto è ancora lì, è identica a otto anni fa quando l'ho finita. Non è una guerra alle protesi, precisa Daniela Lizzi, ma l'obiettivo di Airia è fare in modo che le donne abbiano la possibilità di scegliere e la tecnica diventi una prassi nel sistema sanitario nazionale. Il dottor Rigotti è riuscito in qualche modo a trovare un codice per poterlo includere, ma non è incluso in un percorso suo, cioè nel percorso di ricostruzione mammaria dopo l'operazione. Cosa manca? Cosa manca? Non devo assorire io a dirlo, ma probabilmente questa tecnica trova degli ostacoli di natura diversa da quella sanitaria e di quella di... Il rischio è che c'erano degli interessi, giusto, anche dietro le protesi? Sì, probabilmente. Andiamo a Belluno con una storia lieto fine. Esce dal supermercato nel quale si era recata per fare la spesa e nota un documento abbandonato sul marciapiede di Rimpetto. Si può solo immaginare lo stupore della donna quando si deve essere resa conto che quella carta rappresentava un assegno da ben 64 mila euro. Il fatto è avvenuto all'esterno di un supermercato in Piazza dei Martiri e secondo quanto ci è stato riportato da un conoscente della signora si sarebbe verificato nella mattinata di lunedì. Il giorno dopo la sagra della Madonna dolorata, questa signora mi ha detto che ha trovato un assegno di notevole entità perché è 64 mila euro e che lei l'ha consegnato immediatamente alla forza pubblica in modo che non andasse perduto. Lei conosce personalmente la signora? Sì, lei che mi ha raccontato il fatto. Era abbastanza colpita dall'entità della cifra. Immediata quindi la reazione della donna che ha subito fermato una volante della polizia impegnata in un normale controllo sul territorio per consegnare l'assegno e assicurarsi che fosse restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno permesso l'individuazione del titolare della somma in brevissimo tempo, il quale, presumibilmente sollevato dalla vista degli agenti, una volta ricevuto quanto aveva smarrito, avrebbe raccontato agli stessi che la somma sarebbe servita per estinguere un mutuo presso la banca. Lei era con la coscienza a posto perché aveva immediatamente dato questo documento, questo assegno alle forze dell'ordine. Un'azione davvero virtuosa e incoraggiante che ha subito ricevuto il plauso del primo cittadino. Una notizia positiva finalmente. Una persona che ha uno spiccato senso civico di rispetto dell'altro e davanti ecco anche a una cosa che ha trovato che poteva anche beneficiarne, invece il dovere l'ha portata a rintracciare il proprietario. Sicuramente è una storia bellissima da tenere da esempio tutti quanti e noi come città di Belluno con orgoglio perché questa cittadina è proprio di Belluno. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago Offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio. Il tempo si mantiene buono. Giovedì 30 marzo. Nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento. Con il passare delle ore, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi. Massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità. Anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse. Soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi. Massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove non mancherà il sole. Qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi. Massime sui 19-21 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago